Detto questo, so che tanti di voi magari non sanno leggere e interpretare questo documento, ma questo che vi faccio vedere, signore, è un pezzo di storia per questa città e soprattutto per la pallagenese italiana, perché questo è il titolo della Fusma di Vertas. Abbiamo voglia di fare qualcosa di importante, l'obiettivo è provare in due anni a dare in auto, senza buttare i miei soldi. Allora, io sarei un pazzo se dicessi, se venissi qua a dire, signori, state tranquilli, spacchiamo il mondo. Purtroppo la vita mi ha insegnato che un anno avevo tre Ferrari in garage, andavo alle corse a stringere la mano a Michael Schumacher, l'anno dopo dovevo chiedere 100 euro per fare la spesa. Nel momento in cui si va a creare un titolo, quantomeno per noi consumanti, si vuole anche pensare che poi un domani il titolo sia, una volta quotato, messo sul mercato, sia appetibile. Grazie al cielo di Potrini non ne abbiamo bisogno. Il nostro rapporto con tutti gli sponsor sarà triennale. Poi ripeto, non sono qua a dirvi ci riusciamo, ma che ci troviamo con il massimo impegno, questo ve lo posso dire. Perché ti dico, credo che fornì meriti in questo tipo di situazione. Scusate l'emozione, anche perché per me è un'esperienza nuova.